Buongiorno, registro questo video per la classe seconda BSA perché appunto la preside ci ha chiesto di sviluppare in modo un po' sperimentale la didattica a distanza visto il problema della chiusura delle scuole e quindi ho provato un po' sperimentale questa lezione a cui non sono abituato nemmeno io poi speriamo ovviamente che la scuola riapra presto altrimenti se dovesse proseguire la chiusura dovremmo sicuramente implementare questo tipo di lezione a distanza e questa lezione è sui promessi sposi, volevo portarmi un po' avanti e quindi leggeremo insieme, commenterò, il capitolo 11 soprattutto in questa lezione che è appunto quello successivo rispetto a dove siamo arrivati in classe in particolare in classe siamo praticamente all'ultima pagina del capitolo 10 quindi abbiamo visto che si era conclusa l'analessi su Gertrude vi ho detto appunto che nel Fermo e Lucia, di cui vi manderò il file a parte la descrizione dell'omicidio di quell'altra suora era molto più diretta, quindi più esplicita invece nei Promessi Sposi viene descritto in modo molto più celato, insomma più discreto appunto il capitolo si conclude con il termine dell'analessi, si ritorna alla storia principale, al presente si dice infatti che era scorso circa un anno dopo quel fatto quando Lucia fu presentata alla signora quindi sappiamo che è passato un anno dall'omicidio della suora all'incontro con Lucia e appunto il dialogo che c'è tra Lucia e Gertrude è un po' particolare infatti Lucia rimane un po' stupita della intrepidezza con il quale la suora la interroga pareva quasi che ridessele il gran ribrezzo che Lucia aveva sempre avuto di quel signore le pareva quasi che avrebbe trovato irragionevole sciocca la ritrosia della giovane se non avesse avuto per ragione la preferenza da Tarenzo quindi Gertrude è molto esplicita in questi commenti che fa sulle relazioni di Lucia quasi la prende in giro per non aver accettato Don Rodrigo anche se il fatto di preferire Renzo è comunque una giustificazione diciamo adeguata e ovviamente noi sappiamo che in realtà Gertrude non è una suora come le altre quindi ha avuto una relazione forte con Egidio, quindi passionale conosce bene il mondo dell'amore dell'Eros però ovviamente Lucia che non lo sa rimane un po' stupita, un po' colpita e rimane appunto, non fa altro che stupire e arrossire l'interrogata quindi Lucia continua a stupirsi e arrossire poi ne parla con sua mamma, con Agnese di questa particolarità di Gertrude però Agnese la liquida un po' facilmente dice infatti i signori, cioè i nobili, chi più chi meno chi per un verso, chi per un altro hanno tutti un po' del matto quindi Agnese attribuisce questa particolarità di Gertrude al suo essere una gran signora quindi i nobili, i ricchi sono tutti un po' particolari e la situazione viene risolta in questo modo, liquidata appunto Gertrude è comunque contenta di fare questo favore al padre guardiano, a Lucia insomma qui si affeziona quindi il capitolo sostanzialmente si conclude così il capitolo 10 il problema appunto nelle ultime righe viene accennato che c'era un uomo troppo premuroso di avere notizie di una di loro e quindi il narratore come fa spesso lasciando le donne torneremo al palazzotto di Costui nell'ora in cui stava attendendo l'esito della sua scellerata spedizione quindi c'è un flashback, un analessi il narratore come fa spesso torna indietro e torniamo proprio ancora alla notte degli imbrogli quindi in questo caso ci spostiamo nel palazzotto di Don Rodrigo stanno ritornando i bravi come vi ricordate i bravi stavano scappando in modo un po' frettoloso dalla loro spedizione quindi che è andata male inizialmente sono tutti spaventati poi il griso bestemmiando un po' qua un po' là li riporta all'ordine infatti viene proprio detto all'inizio dell'undici quindi come un branco di Segugi dopo aver inseguito in banno una lepre tornano mortificati verso il padrone con i musi bassi e con le code ciondoloni così in quella scompigliata notte tornavano i bravi quindi tornano come dei cani un po' che hanno deluso il padrone perché non hanno riportato la preda Don Rodrigo intanto non li ha ancora visti quindi è lì tutto impaziente nel suo palazzo è anche un po' agitato perché dice proprio pensa che la più grossa e la più rischiata a cui il bravo uomo avesse ancora messo mano quindi Don Rodrigo è abituato a farsi un po' i cavoli suoi però rapire una fanciulla da un villaggio era una cosa grossa insomma che non aveva mai fatto a questi livelli però appunto ci sono i suoi sospetti alla fine li liquida un po' i suoi timori dice vorrei un po' sapere chi sarà quel voglioso che venga qua su a vedere se c'è o non c'è una ragazza venga venga quindi chi avrebbe il coraggio insomma di venire a rompermi le scatole del mio palazzo infatti dice venga il frate venga la vecchia invece se ne va da Bergamo la vecchia sarebbe Agnese perché la spedizione era fatta in modo che alcuni gli unici che potessero parlare dei bravi erano dei bergamaschi quindi con un accento un po' diverso in modo che appunto Agnese pensasse che Lucia fosse stata portata nella bergamasca e poi Don Rodrigo pensa ancora venga il Podestà il Podestà non è né un ragazzo né un matto e a Milano chi si cura di costoro a Milano quindi da un lato il Podestà lì nell'Ecchese con suo amico dall'altro la giustizia a Milano non se ne fregherà insomma di questi poveri contadini dell'Ecchese quindi nessuno gli darebbe retta e poi il pensiero si sposta su Lucia dice Lucia sta per arrivare poi inizia a pensare alle lusinghe le promesse che adopererebbe per abbonire Lucia infatti dice avrà tanta paura di trovarsi qui sola in mezzo a costoro a queste facce che il viso più umano qua sono io dovrà ricorrere a me toccherà lei pregare quindi dice tanto i bravi qua intorno a me sono tutti degli avanzi di galera io sembrano un lord è un bel signore quindi Lucia si rifuggerà in me per avere qualche modo soccorso quindi si consuma questo pensiero però appunto arrivano i bravi mentre fa questi bei conti sente un calpestio va alla finestra apre un poco fa capolino sono loro vedete c'è tutto l'elenco per assindeto dei verbi proprio che indica un po' anche la concitazione dell'azione e appunto vede che ci sono tutti tranne la bussola la bussola sarebbe l'oggetto quindi Lucia insomma l'oggetto della sua attenzione e niente quindi il griso entra a fare riferire e Rodrigo lo aspetta dall'alto della scala del pianerottoro lo prende un po' in giro dice ah signor spaccone signor capitano signor lasci fare a me vedete è proprio scritto tutto lasci fare a me quindi lo prende un po' in giro un po' infastidito il griso risponde in modo un po' dialettale le dura le dura come si fa ancora in Lombardo le dura di ricevere rimproveri dopo aver lavorato fedelmente cercato di fare il proprio dovere e arrischiata la pelle quindi il griso inizia a giustificarsi e adesso gli spiegherà nel dettaglio a Don Rodrigo com'è andata la cosa quindi Don Rodrigo non è più infastidito ma anzi approva il comportamento del griso infatti gli dice hai fatto quello che si poteva ma che sotto questo tetto ci fosse una spia se c'è lo arrivo a scoprire e lo concio per le feste quindi entrambi iniziano a sospettare in effetti parte è vero perché il servitore ha fatto diciamo da informatore che ci sia una spia sotto casa quindi sono molto infastiditi da questa possibilità e poi il griso cosa fa? manda due uomini a fare al console quella tale intimazione di cui si raccontava nel capitolo 8 quindi nel capitolo precedente quindi vengono mandati al console che era diciamo una specie di sindaco di Acquate due bravi che sono gli stessi del capitolo 1 a fare l'intimazione che non dica nulla al podestà non ha nessuna indagine però è una scena che è già stata descritta quindi anche qua il narratore fa un po' avanti e indietro con la storia e appunto il griso va a dormire che ormai è praticamente in piena notte e poi la mattina dopo ha l'incarico di andare ad Acquate per cercare di scoprire qualcosa di quello che è accaduto quindi dopo poche ore sarà già in azione e poi